buongiorno stamattina trasmissione mattutina per un nuovo pacco sempre roba di livello scusate intanto che ci sono di guardo ok e questa volta è un regalo top per uno dei miei nipoti perché perché faccio la premessa mi sembra due anni fa due anni fa due anni e mezzo fa gli ho regalato un missile di cartone ed è successo due settimane fa che abbiamo fatto una missione sulla luna dove lui doveva praticamente mettere una bandierina sulla luna e mentre lui stava viaggiando dentro il missile io chiaramente dovevo controllare che non ci fossero alieni o quant'altro però non era cioè era bello ma non era bello il contesto perché la stanza era buia però non c'erano le stelle non c'erano cose allora cosa ho fatto in realtà non è la versione rosa ma è la versione blu io ho comprato una lampada che fa le stelle aspettate che ha dei pezzi qua non so se vedono tutte le stelle sopra praticamente sto cosino qui spara la luce fa tutto vabbè nelle foto si vedeva tipo un planetario sembrava l'universo immenso secondo me saranno tre cose comunque poi a gira e poi a questo coperchio che devo ancora capire bene forse per non lo so perché ci vanno quattro pile che chiaramente non ho e quindi niente acqua a tre modalità deve essere una figata in mane quindi te ci pensi viaggiare con un missile di un certo livello però con le stelle cioè hai una missione hai dove arrivare perché il contesto che anche conta se hai mai andato su un missile e non avevi le stelle sopra la testa non ha senso cioè non ci sta proprio che tra l'altro alla prossima missione andrò anch'io nella novicella e quindi non so se ci rivedremo ed eventualmente farò anche una diretta niente vi volevo rendere partecipi di questo regalo per eventuali nipoti io dico nipoti mio nipote ha cinque anni e mezzo però se voi ci tenete potete anche comprarvelo per voi infatti io adesso lo proverò e se mi piace mi sa che ne compro un altro me lo tengo in camera mia perché comunque vuoi mettere la sera vedere il cielo stellato perché con questo caldo non ci vai fuori e niente è un'altra cosa che ho comprato oggi no oggi in realtà ieri figata eva ciao ciao